ma lì io ho pianto sopra mi chiede da c'è una roba per amici efe che c'è anche vero ed ancora era giusto che si sa perché mi è preso per un angolatore ah... io tiro giù questo questo è un'inchezza vele no oddio una parca una parca ci sta operando oddio 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 qualcuno mi sta entro io entro io io di puttana oh no io sono morto mi è arrivata in piena faccia figli di cagna che palle erano per partiti vabbè ahhhh non posso andare all'altro mondo il tempo si è fermato si è fermato ti da da bere madonna ma non sta aperto non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è no no ok oh porco schifo ahaha mi hanno abbottuto oh fede ne ha ammazzato uno no perchè qua ce ne uno vela ok ok perfetto aaaah guidar ooooh che cazzo 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 ehi tizio non serve la mappa, c'è la fede sulla schiena una mappa tipo vieni a vedere c'è Andrea, allora fede ci stiamo per schiantare come il titanic appoggio alè avanti ho visto ho visto da un youtuber sai cosa serve il si si ho visto mister ho visto un youtuber primo le vele sono contro vento, secondo non so dove cazzo sta andando sono caduto, sono caduto è terzo perry perry aspetta la sirena anche io sono caduto è un'esperienza che dobbiamo fare tutti che cazzo sta guardando perry no quello lì è l'avamposto devi girare un pochetto a destra a destra per evitare l'avamposto vabbè gira a sinistra gira a sinistra questi sono le segniate gira a sinistra no no le ah si è segnata subitanto ci siamo pienamente sopra ok io scendo a riparare non è come si è brava oh oh boh oddio vai 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 no gira leggermente destra gira leggermente destra oh oddio stai facendo l'inchino come cazzo mischettino oh come schettino l'abbiamo schiato sozzo veloce non mi ricordo dove le scale dove la scala di qua oh porca troia muoviti vabbè quella arriva quella arriva no vabbè lascio qua vabbè ti fa lit marker ahah vabbè vabbè continua vabbè continua vabbè continua a girarli intorno continua a girarli intorno continua a girarli intorno mi attrappo mi attrappo fuoco 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 oh mio dio oh cazzo ma c'è anche un discontrolo sta nave spavate al capitano questo 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 fuoco oh oh merda andate addosso andate addosso andate addosso ma è sceso e se ce la facessi non c'è mai riuscito nessuno al primo salto è sceso è sceso è sceso tizzi buchi buchi è sceso potrebbe salire ah io riparo i buchi intanto che merda Fede dimmi non hai guardato la sexy donzella del vostro equipaggio non guardarla se non vuoi morire ahah te l'ho detto un po' ma salve donna baffuta no ma io ne offro un po' di biva va bene ma certo dove cazzo vuoi prendere ma c'è è qua al grog riusciano siamo venuti qui a conquistare dopo il baltico e il mar baltico vabbè dai rallegriamo il viaggio con un po' di musica sparate a quella a quella ticcia basta buttatelo giù dal ponte fuori raga dove cazzo stiamo andando su serio non lo so non lo so questa cazza non è del capitale questa cazza è la nostra cazza è la cazza del popolo è la cazza del popolo voglio